Garantirgli finalmente lo sviluppo che merita. Diamo valore alla solidarietà e facciamo della diversità ricchezza. Rilanciamo l'artigianato, il commercio e l'agricoltura al fianco delle associazioni di categoria. Per il lavoro, il turismo, la viabilità, per far ripartire Fano, Marotta e gli splendidi paesi dell'entroterra, vota il cambiamento. Vieni in regione con me, vota Talè. Sulla scheda scrivi Talè, accanto al simbolo del PD. Benvenuti a questo secondo appuntamento con Federico Talè, attuale sindaco di Mondavio, che ha deciso di candidarsi come consigliere regionale, coniando lo slogan Scegli il nuovo in regione con me. Federico, nel precedente incontro ci siamo lasciati con l'inquadratura di una bellissima foto che ti ritraeva con il grande Valentino Rossi. In quale occasione è stata scattata? Sì, quella è una foto che è stata scattata a marzo di quest'anno, quando casualmente sono andato a fare un sopralluogo al crossodromo di Cavallara, che naturalmente è nel comune Ricade, nel comune di Mondavio. In quell'occasione appunto sono andato a fare un sopralluogo perché c'erano dei lavori nei pressi del crossodromo e ho visto Valentino che stava girando nella pista. Come il campione della pista in un crossodromo? Sì, sì, lui ce la cava benissimo anche con le ruote artigliate, tant'è che sei anni fa, nel 2009, è stato insomma il protagonista di una grande kermesse qui a Mondavio nel crossodromo di Cavallara. Davvero? Di cosa si tratta? Si è trattato appunto del motocross dei campioni, una gara che Valentino Rossi ha voluto sfidare i suoi colleghi del MotoGP erano presenti Melandri, Capirossi, Schvanz, era anche presente Marco Simoncelli, l'indimenticato Marco Simoncelli. A questa gara hanno partecipato 15.000 spettatori ed è stato un momento non soltanto legato allo sport, ma proprio Valentino Rossi ha voluto che questo momento sia legato anche a un momento di solidarietà, tant'è che abbiamo consegnato un assegno di 90.000 euro all'AIL, alla lotta contro, all'associazione che lotta contro le leucemie alla sezione di Pesaro. Si potrà mai rifare una cosa del genere? Penso proprio di sì, tant'è che proprio a marzo, quando ci siamo incontrati, la prima cosa che Valentino Rossi mi è venuta a dire, dandomi una pacca sulla spalla, sindaco, dobbiamo senza meno rifare il motocross dei campioni, anche perché allora portò fortuna a Valentino Rossi perché vinse il mondiale, tant'è che da marzo, da quell'incontro, ha ricominciato a vincere. Ho allertato immediatamente gli organizzatori, quindi ho dato la disponibilità, ho chiamato il cross club di Cavallara e quindi il suo presidente, che approfitto per ringraziarlo perché è sempre molto disponibile, Santori e Fiorenzo, il quale appunto si sta allertando e si è allertato insieme a me perché a novembre appunto vorremmo fare questa seconda edizione e sarà una edizione che Valentino Rossi ha già detto che vuol dedicare al compianto Marco Simoncelli. Parlando di raccolte fondi e solidarietà, è inevitabile pensare ai servizi sociali? Sì, la questione dei servizi sociali è una delle cose più importanti diciamo che ci circonda, che circonda la vita politica di una comunità. penso che la comunità, la forza di una comunità si misuri anche dal grado di supporto e difesa verso il cittadino più debole e soprattutto verso la famiglia. Quindi penso che dalla Regione Marche, un consigliere regionale, debba dare il giusto supporto anche economico a tutti quei servizi che comunque implementano questo tipo di discorso. Legata al sociale c'è anche la piaga della disoccupazione giovanile. Sì, la disoccupazione giovanile è sicuramente un'emergenza sia a livello nazionale che a livello locale e quindi regionale e provinciale. La Regione dovrà fare sicuramente la sua parte perché dovrà finanziare tutti quei progetti di start-up e quindi l'innovazione e la ricerca appunto per reinserire i giovani e i meno giovani nel mondo del lavoro. Torniamo alla tua vita privata Federico. È vero che sei stato un campione di moto, un vero asso della vasca? Sì, dalla maschera da bagno. A parte le battute, sì, è vero che in un certo periodo della vita, quindi da ragazzino, ho nuotato, ho partecipato anche ai campionati italiani di nuoto, grazie all'impegno, qui lo devo dichiarare pubblicamente, di mio babbo che tutti i giorni mi portava a Fano da Mondavio, quindi 25 chilometri andata, 25 ritorno, quindi all'impegno soprattutto di mio padre e alla costanza. Sì, ho fatto nuoto, sono stati degli anni bellissimi, ho avuto anche qualche risultato, naturalmente c'era chi andava più forte di me ed è per questo forse che mi sono dedicato poi alla politica. Mi ricordo sono stati appunto degli anni molto belli, insieme a dei ragazzi splendidi, qui i fanesi, che ricordo molto bene, con i quali ancora ho dei colloqui, ci si vede durante l'anno, ci si sente nei social network, eccetera. Posso fare anche dei nomi, Tatiana Falcioni, Rossella Ceccaro, Marco Frattesi, Giovi Giovanni, Giovi Giacomo, ecco tutti i cittadini fanesi che hanno condiviso con me quegli anni molto belli nella piscina Dini Salvalai. Importante è anche ricordare gli allenatori, ho avuto tre allenatori, uno più importante e più meraviglioso dell'altro, due dei quali molti cittadini fanesi conoscono e sono scomparsi purtroppo Ricci Felice e Ricci Guido. Naturalmente sono ancora rimasto molto amico con Cile, il famoso ristoratore fanese, il quale appunto è il fratello di Ricci Felice e Ricci Guido. A proposito, vediamo delle foto del baby Federico Atleta. Sì, qui sono i ricordi di quando nuotavo, ero piccolo, e sono bei ricordi, anche se mi mettono un po' di tristezza. Perché? Per gli anni che passano? Sei ancora giovane? No, gli anni che passano, per carità, anzi, è normale che gli anni passino. Il problema è che guardando queste immagini mi viene in mente che la piscina Dini Salvalai è rimasta la piscina di allora e quindi degli anni 70, degli anni 80. E non è giusto, non è possibile che una città come Fano possa avere una sola piscina in quelle condizioni. Se pensiamo a Senigallia che ha la metà degli abitanti di Fano, Senigallia ha tre piscine, una migliore dell'altra, tra cui una olimpionica. Quindi ecco, anche questa è una nota negativa, una cosa che dalla Regione Marche dovremmo senza meno incentivare e dare spazio anche a livello economico al Comune di Fano per risolvere questo problema della piscina. Visto che parliamo di Fano, cos'altro ci vuoi dire su questa città? Ma intanto che Fano, la terza città delle Marche, merita sicuramente un po' più di attenzione rispetto a quella che ha avuto fino ad oggi. Non è possibile, ci sono delle cose inaccettabili che Fano non abbia una circonvallazione che bypassi il centro e quindi lo preservi dalle auto. E poi? Ma poi mi viene in mente la questione del dragaggio e quindi l'attenzione verso il porto, il porto turistico, tanti finanziamenti, tanti soldi sono stati spesi in quel porto giustamente perché è una grossa risorsa non soltanto per Fano ma tutto il turismo della provincia di Pesaro e quindi della vallata del Metauro e quella del Cesano, però poca attenzione ha avuto il porto e quindi qui il discorso del dragaggio, proprio in questi giorni sono stati fatti dei lavori di dragaggio del porto ma è stato dei lavori che non sono stati assolutamente sufficienti, quindi insufficienti. 2.000-2.500 metri cubi di materiali sono stati tolti dal porto ma non è sicuramente sufficiente, tanti altri bisognerà toglierne. Oltre al dragaggio l'altro tema importante che riguarda Fano e che riguarda la costa quindi, diciamo che la spiaggia di Fano è una meravigliosa spiaggia e Fano ha avuto la bandiera blu già da anni ma Fano non ha mai avuto un'adeguata protezione della costa e quindi anche qui una maggiore attenzione da parte della regione proprio per Fano, per il porto, per la costa e quindi per sviluppare il turismo in tutto il territorio circostante di Fano. In regione quindi vorresti batterti per questi obiettivi? Assolutamente sì, quando parlo di nuovo intendo anche questo, cioè raggiungere quegli obiettivi che i cittadini di Fano, i cittadini di Marotta, ma i cittadini dell'entroterra di Fano e Marotta si aspettano da tempo. Federico io ringrazio i telespettatori per essere stati con noi e ti invito a rivolgerti direttamente a loro. Con molto piacere, mi sono messo in gioco ed ho accettato la sfida elettorale perché ho voglia di dare tutto me stesso con tutta la passione e la determinazione per una regione finalmente vicina alla famiglia ai nonni, ai papà, alle mamme, ai loro figli. Per una regione in grado di stare al fianco degli agricoltori, dei commercianti, degli artigiani e delle loro associazioni di categoria. Per una regione più vicina al territorio e ai suoi amministratori locali. Se anche voi credete che questo sia l'obiettivo da raggiungere, il 31 maggio, nella scheda elettorale, a fianco al simbolo del PD, scrivete Talè. Io lavorerò per tutti voi. Sono Federico Talè, sindaco di Mondavio. È da qui che parte il mio impegno per voltare pagine in Regione. Ho sempre puntato sul lavoro, quale diritto e fondamento della dignità di ciascuno. Porterò la mia esperienza per accendere i riflettori sul nostro territorio e garantirgli finalmente lo sviluppo che merita. Diamo valore alla solidarietà e facciamo della diversità ricchezza. Rilanciamo l'artigianato, il commercio e l'agricoltura al fianco delle associazioni di categoria. Per il lavoro, il turismo, la viabilità, per far ripartire Fano, Marotta e gli splendidi paesi dell'entroterra, vota il cambiamento. Vieni in Regione con me, vota Talè. Sulla scheda scrivi Talè, accanto al simbolo del PD.